Qualcuno aveva mormorato ma io perciò ho preferito parlare Che vi eravamo litigati No, che addirittura voi volevate farla convincere il condominio a cacciarla via dal... Di mandarla via, chiedevi Di mandarla via Ce l'hanno mandato un po' che giorni a stare a gestire? No, dicci quanto è? 749 e 10 E meno quanto abbiamo scritto con poco contratto Il contratto è 800 euro Questo è tutto Settimana scorsa camminavano dei topi dal marciapiede No, onestamente insomma Signore, pensate che a Napoli teniamo 7 soccoli a testa Facetevi un punto di vista Eh, avete contato con il cistante Ma facciate La immagine che vedete perché poi morono sempre i condomini di cune E i fattini di condomini non morono mai